Sullo stabilimento balneare La Playa per parlare di Brodetti, con i Brodetti di Vasto, di Giulianova e di Pescara, nella commissione speciale degli organizzatori anche il noto Tino Di Sipio, storico per Antonomasia, non solo in campo enogastronomico ma anche in campo politico, ma per parlare di Brodetti. Ecco, perché piace così tanto questo piatto? Lei se l'è mai chiesto? Il piatto, questo piatto piace perché ricorda a chi è nato e vissuto al mare, i momenti in cui la sera rientravano le barche e tiravano fuori le scafette. Il giorno dopo già il Brodetto non c'era più. Poi c'è questo affetto che è fortissimo perché non lo si trova più nei menù dei ristoranti, tranne prenotarlo, ma prenotarlo vuol dire poi avere la fortuna per quel giorno che il ristoratore abbia potuto trovare tutti i pesci che vanno nel Brodetto. La differenza tra i tre è nota, è data dai vegetali che vengono messi nel Brodetto e forse il più famoso è il Vastese, anche perché è riuscito a brevettarlo, fra virgolette. Quello pescarese che oggi non abbiamo provato, fatto soltanto col feffullone, cioè con il peperone rosso crusco e poi c'è il Brodetto di Giulianova che è forse il Brodetto più vicino al discorso di quello che è le Marche Umbria. Tenendo conto che il Mar Adriatico non ha le paratie, quindi il pesce, se Dio vuole, in questa parte d'Abruzzo è sempre quello. Ma il Brodetto come ha saputo raccontare la storia del territorio, secondo lei? Per la miseria, perché è un piatto misero e io ricordo sempre che mio padre diceva che quando era bambino, pizze e fughe, era il mangiare del contadino che stava sotto. Oggi dove lo trovi? Un piatto di pizze e fughe, posso dirti anche dove, vicino Caramanico, lo paghi 25 euro ed è giusto che sia così. È la vendetta del contadino o del pescatore povero nei confronti dell'attuale consumatore.